Continua più forte che mai e con grandi successi la tradizione del tennis alla Canottieri Mincio. Sono attualmente 250 gli iscritti della società mantovana che dal 2018 collabora con l'Accademia Vavassori, uno dei centri italiani più importanti per la crescita dei giovani talenti della racchetta. Un vivaio florido quello della Cano con un centinaio di ragazzi sotto i 10 anni. Al momento qui in sede si allenano anche tra i più bravi della categoria Under-14 e Under-16, ultimo il nostro Samuel Estevez Junior che ha vinto i campionati regionali Under-15, quindi numero uno della Lombardia e a breve partirà per i campionati italiani che si giocheranno a Palermo per portare avanti i colori sia della Canottieri Mincio che dell'Accademia Tennis Vavassori. Ho iniziato questo sport grazie a mio fratello perché già lo faceva lui da piccolo e quindi ho iniziato anche io. Ho iniziato a sei anni e questo sport mi rigala gioie. Pratico questo sport da quasi dieci anni e vorrò continuare anche in futuro. Io da piccolino ho visto da subito il mio papà giocare a tennis e quindi ho voluto intraprendere. Uno sport che ti insegna molto perché è molto tecnico, sia tecnico che mentale e soprattutto anche fisico, quindi alla fine ci devono essere vari componenti. È un po' l'insieme di tutto che mi ha portato a giocare a tennis e spero di poter giocare per molto tempo, quindi ancora per molto.